Emergenza 118 a Napoli, dove si ha una media di 200 richieste di soccorso al giorno, in una rete dell'emergenza sanitaria ormai congestionata e che torna a preoccupare i sanitari. Domani pomeriggio alle 17 in Prefettura Marco Valentini incontrerà, insieme a Giuseppe Galano, responsabile del 118, i direttori generali delle ASL Napoli 1, 2 e 3. Ogni giorno, intanto, sono almeno 25 le richieste di aiuto dei malati Covid o sospetti coronavirus. L'ospedale Cotugno è saturo, ma il Cardarelli resta fuori dalla rete della cura dell'emergenza sanitaria. Anche all'oretto mare i ricoveri sono in aumento, come aumentano i contagi, e si contano 564 nuovi casi su 17.000 test processati. E sono stati intanto vaccinati i primi 36 profughi arrivati dall'Afghanistan a Ponticelli. La platea da vaccinare è di 94 persone, dei 127 profughi ospitati in campagna. 23 hanno meno di 12 anni, 8 hanno dichiarato di essere stati già vaccinati. Uno è risultato positivo al tampone molecolare e uno è indegenza ospedaliera. È stata operata, intanto, e sta bene, la donna che era ricoverata all'ospedale del mare per un intervento chirurgico, eseguito dall'equip di chirurgia ortopedica. Non si ferma, invece, la gara di solidarietà per aiutare le persone scappate dall'inferno afgano. Tante le telefonate per l'Associazione della Protezione Civile al Quadrifoglio, che sta raccogliendo giocattoli e altri beni necessari agli ospiti. Chi vuole dare un aiuto può contattare l'Associazione al numero 388 3874 980. Grazie a tutti.